Buongiorno da Gilda TV, in diretta abbiamo il professor Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda, al quale vogliamo rivolgere due domande. Innanzitutto vogliamo chiedere al professor Di Meglio una sua impressione riguardo al convegno, cosa ne pensa di questa giornata. Innanzitutto una sua impressione e come seconda domanda voglio ricordare l'intervento introduttivo del professor Dotti che ci ha sottolineato la scarsa accoglienza del progetto della Buona Scuola di Renzi. Molti insegnanti non hanno letto questo progetto, le 138 pagine. A questo proposito vogliamo sapere cosa ci si aspetta per le elezioni RSU, quindi quale sarà la partecipazione e qual è il punto di vista della Gilda anche rispetto alle elezioni. Sono molte domande. Partiamo dal convegno. È stato un bellissimo convegno con una grande partecipazione, veramente grande. Abbiamo dovuto cambiare l'aula perché la gente era troppa. Questo è importante perché significa che gli insegnanti sono attenti a quello che sta succedendo e hanno voglia di esprimere la loro opinione, cosa che fino adesso non è stata consentita. Il problema grosso qual è? Che il governo dovrebbe ascoltare di più prima di andare a pretendere di toccare un meccanismo delicato come quello della scuola pubblica statale. Speriamo che si fermino e che ci pensino un momento. Questa è la volontà. Altrimenti noi, assieme a tutti gli insegnanti italiani, troveremo il modo di far sentire in modo ancora più forte la nostra voce. Per la questione che mi chiedeva della partecipazione del RSU, è un momento importante. Penso che il voto dei colleghi servirà anche a confortare la Gilda. La Gilda è stata l'unica organizzazione che in questi giorni ha promosso non solo assemblee sindacali su problemi sindacali, ma anche questi dibattiti sulla buona scuola e li ha contestati non per partito preso, ma ragionando punto per punto. Questo è molto importante. Quindi penso che andare a votare e darci il consenso al RSU servirà anche a rafforzare le nostre posizioni e le posizioni degli insegnanti italiani circa questi progetti che potrebbero mortificare gravemente la nostra categoria. Ringraziamo ancora il professor Di Meglio, da Gilda TV è tutto.